All'interno del circolo dell'economia circolare, Alca si colloca nella sezione che si dedica al recupero di materia e di energia dai rifiuti. Primo ho detto che uno dei concetti basilari dell'economia circolare è far diventare i rifiuti di qualcuno delle risorse per qualcun altro. Allora, Asia utilizza le quotature del verde cittadino, la frazione organica dei rifiuti sui di urbani, per produrre energia elettrica rinnovabile. Biometano, che è un gas del tutto simile a quello che utilizziamo in cucina, però pulito e sostenibile. E' compost, che è un fertilizzante naturale che può essere sostituito ai fertilizzanti chimici in agricoltura. Le tecnologie che utilizziamo per reintrodurre questi rifiuti all'interno del ciclo, che sono quindi quelle tecnologie che ci permettono di annodare la nostra corda, sono tecnologie sicure e pulite, nonostante abbiano dei nomi complicati come gestione anaerobica, compostaggio e asperetimo. Com'ideale, l'economia circolare è già in giro da qualche decennio, ma soltanto negli ultimi anni si sono rese disponibili delle tecnologie come le tecnologie digitali e le biotecnologie che la rendono realizzabile. Ma le tecnologie da sole non bastano, servono le idee e le persone. Ecco, quello che è l'obiettivo di Asia, quello che vuole fare, è diventare un fattore abilitante al pari di questa tecnologia per realizzarle l'economia circolare, e quindi diventare uno dei tanti fili che intrecciati insieme compongono la nostra corda.